L'emozione è tantissima, l'entusiasmo è altrettanto, quindi sono molto contenta di essere qui. C'è un grande sogno, un grande obiettivo da raggiungere e cercherò veramente di dare il massimo per aiutare a farlo, a raggiungerlo. Bisogna avere una preparazione, come detto tu, fisica molto importante e stare molto attenti agli errori che si fanno, non concederne troppi, soprattutto come può essere un banale rimbalzo offensivo, però in questo 3 contro 3 alla lunga può esserti fatale. Ray e il suo entusiasmo è davvero contagioso, infatti trascina tutte e potrebbe essere davvero la nostra arma in più in questo. Sono molto contenta di avere la possibilità di conoscerla anche meglio, perché sai, durante il campionato così non è che hai tanta possibilità, invece così, avendo questi giorni molto più tempo, insomma, fa tutto parte del pacchetto. È bellissimo, insomma, essere qua.